Il mio sogno è vincere Scudetto. Se tu giochi in Milan devi vincere. Non devi lottare per il sesto, il settimo, non esiste. O primo, o niente. In vita devi sempre avere voglia di fare di più. Uno che è soddisfatto si mette sul divano e si rilassa. Non voglio questo, voglio stare su dite e camminare sul fuoco. Perché così mi sento vivo. 100% soddisfatto o no? Perché ho voglia di più. Perché... Voglio... Voglio fare ancora di più. Voglio fare ancora di più. Voglio fare ancora di più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Got it! What a goal! www.feyyaz.tv Bisogna credere, quando vediamo cose, le cose arrivano, in un modo o in un altro. Grazie a tutti per aver guardato il video.